Meno di 400 positivi, meno di 30 ricoverati, un reparto in più tornato alla normalità. Nel territorio dell'Ulse Dolomiti è questo il quadro relativo all'epidemia. Lo sforzo organizzativo rimane fortemente orientato alla campagna vaccinale, che ha da poco tagliato il traguardo delle 100.000 dosi somministrate, ma anche l'attività ordinaria, a ripresa da tempo, ritmi e spazi. È stata disattivata la geriatria Covid all'ospedale di Belluno e rimane attiva un'area per pazienti Covid positivi assistiti da pneumologia e malattie infettive. A livello Veneto, il tasso di copertura vaccinale della popolazione dai 60 anni in su è già piuttosto ampio. Gli over 80 sono vaccinati al 97%, le persone tra i 70 e i 79 anni all'82,5%. Quelli nati nel decennio successivo al 64%. L'apertura delle prenotazioni per i 50 anni ha già prodotto una copertura al 21%, mentre disabili e vulnerabili sono rispettivamente al 72% e al 68%. Nel complesso, il 31% della popolazione è residente e ha ricevuto almeno una dose, mentre il 13% ha completato il ciclo.